La prima contribuibile con questa coalizione a sconfiggere una brutta destra, una destra estrema, a sconfiggere una brutta destra che vorrebbe ricominciare col fossile in ogni luogo come unica soluzione all'emergenza che diventa la normalità, perché non ha mai una soluzione che guardi al futuro, a sconfiggere una brutta destra che di fronte alla crisi drammatica di questo paese, alla crisi sociale, ai salari troppo bassi che non ti consentono di stare dietro all'inflazione, neanche di vivere con dignità, propone la flat tax. C'è una cosa che, detta semplice semplice, fa sì che Silvio Berlusconi, multimiliardario, paghi la stessa percentuale di un lavoratore e di una lavoratrice del settore delle pulizie o di un insegnante di questo paese. Gli insegnanti, una categoria fondamentale per dare un futuro non solo ai nostri giovani ma al nostro paese, sottopagata, poco considerata. Mi pare una cosa giusta? Io trovo che sia la cosa più ingiusta che esistere, far pagare la stessa percentuale a chi non è nella stessa condizione. Noi vogliamo sconfiggere questa destra e daremo il nostro contributo, ma contemporaneamente questa lista ha anche un'altra funzione, quella di mettere in campo proposte, soluzioni di cui quasi nessuno parla. Vorremmo il giorno dopo presentare, e la presenteremo, una legge che come hanno fatto in Spagna, cancelli la selva dei contratti precari.